Ben ritrovati alla nostra rubrica del martedì, confronti in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento. Vi presento subito gli ospiti di oggi, Rodolfo Borga, consigliere di Civica Trentina, ben arrivato, e Graziano Lozer, consigliere invece del PTT, ben arrivato anche a lei, Rodolfo. Allora, la scorsa settimana si è svolto il Dryer Land Tag, la dodicesima seduta congiunta delle assemblee legislative di Trento, Boltano e del Land Tirolo austriaco. Al centro dei lavori, ovviamente, in questa seduta congiunta si parla di argomenti di interesse trasfrontaliero, per cui non poteva non esserci il tema del Brennero e dei migranti, tant'è che è stata approvata proprio anche la prima giornata, una mozione dei tre presidenti Van Stah, Widman e Dorigatti, proprio sul tema dei profughi. Una mozione che però non ha visto d'accordo il consigliere Borga, tant'è che non l'ha approvata. Una mozione che prevede sì il tema dell'accoglienza dei migranti, la creazione anche di hotspot per la gestione del loro arrivo, dell'identificazione, e poi questa mozione prevede anche che però queste persone, una volta che le crisi siano risolte nei loro paesi di provenienza, tornino nelle loro terre. Allora, io consigliere Borga chiedo subito a lei che cos'è che non l'ha convinta di questo testo. Cominciamo col dire che per quel che riguarda il Trentino e penso anche l'Alto Adige, i profughi richiedenti asilo che stiamo ospitando in realtà non provengono dalla quasi totalità da zone di guerra, il 94% provengono dall'Africa subsahariana e dall'Asia, quindi si tratta di migranti economici, i quali si vedranno con ogni probabilità respingere la richiesta d'asilo, il che tra un paio d'anni il che darà luogo a ulteriori problemi che sono facilmente immaginabili e riscontrabili tutti i giorni. Detto questo è una mozione che ha voluto tenere assieme un po' tutto, anche posizioni un po' diverse come quelle di chi si trova a sud del Brennero e di chi si trova invece a nord del Brennero che sostanzialmente ha appoggiato la decisione del governo austriaco e una mozione che dice poco ma è soprattutto secondo il nostro punto di vista, è una mozione che si rivolge all'Europa perché di concreto non c'è nulla, si tratta di inviti, di auspici eccetera e l'Europa ha già dimostrato completamente il suo fallimento insomma, è l'Europa che ha fatto recentemente un accordo con la Turchia che costerà un occhio della testa ai contribuenti europei e ai contribuenti italiani, la Turchia che è uno invece degli stati che sono i principali responsabili della guerra che sta devastando la Siria, sostiene chiaramente le formazioni terroristiche che stanno combattendo in Siria e soprattutto è un accordo che sposterà le rotte del traffico di questi emigranti dai Balcani al Mediterraneo e quindi intaserà ulteriormente l'Italia in Europa che come abbiamo visto recentemente ha reagito anche agli attacchi di Bruxelles piangendo, andando a piangere in diretta con l'altro rappresentante, l'italiana Mogherini è veramente un bel esempio di fermezza e di decisione, non si è mai visto credo un uomo di governo che vada a piangere in televisione dando così proprio un bel messaggio di sicurezza al popolo, è un'Europa che sostanzialmente finora non ha fatto nulla, anzi è la contraddizione più evidente in questa mozione, nel mentre non si vogliono i confini al Brennero però si vogliono e sempre più fermi i cosiddetti confini esterni che sarebbero per quanto ci riguarda i confini dell'Italia in questa mozione, bene, ci si rivolge all'Europa chiedendo che garantisca i confini esterni, però è questa stessa Europa che ha avviato una procedura di infrazione contro l'ultimo governo italiano che ha cercato e ci ha anche riuscito di difendere questi confini esterni, quindi noi ci rivolgiamo a chi nel momento in cui il governo italiano ha cercato di difendere questi confini ha avviato una procedura nei suoi confronti, quindi evidentemente si tratta così, capisco per carità di un'indicazione di principio, però a nostro avviso del tutto priva di qualsiasi contenuto. Lozzere, invece secondo lei questa mozione avrà delle ricadute pratiche, si parla anche di Europa ovviamente, molti invocano l'impegno anche dell'Europa, quindi che l'Italia non venga lasciata da sola in questa situazione, ma che conseguenze pratiche potrebbe avere secondo lei? Beh, innanzitutto questo è un tema, una situazione d'allarme che è nuova per l'Oregio, l'Oregio si è confrontato su altri temi precedentemente e quindi è a dimostrazione che questa nostra regione c'è, esiste, i rapporti tra i governatori sono molto improntanti, le assemblee legislative si sono confrontati su un tema che è un fenomeno che interessa territori molto vasti, è un fenomeno mondiale e quindi credo che questo senso di responsabilità, una responsabilità di governo che in questo momento abbiamo, perché logicamente rispetto alla posizione del collega Borga che lui giustamente porta avanti una linea dell'opposizione, noi siamo al governo e noi al governo dobbiamo anche prenderci queste responsabilità, quindi credo che d'ora in poi bisognerà ragionare anche con i vertici europei e ci saranno delle posizioni che sono state appunto approvate in questa mozione. c'è una parte finale che la trovo anche interessante, questa idea comunque di questi profughi giustamente identificati che poi fanno un percorso e questo percorso credo nel nostro territorio possiamo dare un apporto interessante, se si pensa a queste persone che ritorneranno nei loro paesi magari con dei progetti nostri di solidarietà, ma anche di formare queste persone, l'abbiamo fatto ancora, il nostro Trentino ha delle esperienze interessanti su territori del Brasile, dell'Argentina, quindi io penso per esempio al settore dell'agricoltura, perché insomma loro provengono da terre che hanno anche delle potenzialità enormi e perché no lavorare in questo senso, quindi un impegno anche trasversale. Ma secondo lei il fatto che adesso in Austria le elezioni presidenziali abbia preso il sopravvento la destra estrema con il partito dell'EFP può complicare i rapporti anche con l'Euregio, il dialogo sulla collaborazione è in salita secondo lei? Ma i territori nostri sono molto vicini, questo dipende da noi, dipende anche da come facciamo vivere questo Euregio, io ho portato un tema diverso, ho portato un tema che riguarda il territorio e qui ci sono tantissime categorie economiche, ci sono scambi che c'erano anche una volta, ma in questo momento abbiamo una potenzialità, possiamo parlare della formazione, possiamo far incontrare i nostri giovani, questo è costruire l'Euregio, dopo naturalmente i rapporti politici sono importanti, per me mi ha fatto piacere poter avere l'approvazione alla mia mozione, ma soprattutto agli interventi importanti in aula da parte della Fosparta e del Tirolo, loro all'interno hanno delle componenti fortissime legate a una sorta di Bauer, una corrente agricola, quindi c'è anche questa politica di categoria che io non volevo lasciarla fuori, anzi è importantissimo. Borga, lei come vede questo risultato in Austria? Ma insomma era atteso anche se forse non in queste proporzioni e poi la vittoria della destra è rilevante, ma forse è anche rilevante il più totale disastro elettorale sia dei socialisti che della Fosparta austriaca. Il fatto è che nonostante tutte le rassicurazioni che i giornali, che la televisione, che la politica cerca di dare alla gente, la gente percepisce le difficoltà del momento, è smarrita di fronte a situazioni molto difficili da governare, molto complesse e credo che questo spieghi il voto che è stato dato, un voto che non è assolutamente un disastro, bisognerà vedere come va il balottaggio, in ogni caso una forza politica come le altre con la quale credo che chi ha responsabilità di governo potrà governare, non è eventualmente come dire, si trasmuterà in un successo, non è comunque il primo dei successi dei partiti di destra che in questo momento, di fronte ad un'Europa che oggettivamente non risponde agli interessi dei popoli, è lontanissima, anzi dall'interesse e delle aspirazioni dei popoli, reagisce votando i partiti che si collocano in contraposizione a questo sistema. Il collega Losser ha parlato della sua mozione che ho votato anch'io sulla biodiversità, ma la votata è quindi evidentemente il giudizio favorevole, però proprio una delle emozioni che noi abbiamo votato riguarda ancora l'Europa e l'approvazione del trattato transatlantico e il modo in cui questo trattato fortemente voluto dalle lobby dell'agroalimentare anglosassoni statunitensi costituisce un pericolo di non poco conto anche per quel che riguarda proprio la nostra agricoltura di montagna, oltre ad altri aspetti ancora più preoccupanti, eppure noi vediamo che di fatto verrà approvata nel silenzio più totale con dei limiti fortissimi imposti agli stessi parlamentari europei alla conoscenza dei reali contenuti di questo trattato, è evidente che noi non possiamo invocare tutele per la nostra agricoltura, lasciando perdere tutti gli altri assessori interessati, nel momento in cui la risposta che dà l'Europa alle esigenze in questo caso degli agricoltori, ma più in generale delle nostre imprese, dei consumatori, dei lavoratori, sono risposte assolutamente deficitari e carenti, la gente alla fine esprime il proprio malessere con il voto e ha anche ragione a farlo. Cosa prevede la mozione Lozer? Ma è un ragionamento che parte da lontano, prima di tutto si porta a questo tema importante che è la biodiversità, la biodiversità è un valore sociale di tutti, non è solo dell'agricoltore che rimane il custode di questi valori, parte un po' da lontano, dalla prima conferenza delle Nazioni Unite su questo tema, fatta a Rio de Janeiro, dove si affronta questo tema e si vede anche sul territorio mondiale, ma in particolare il nostro territorio nazionale, di quanto è ricco di queste specie, sia vegetali che animali. Pensate che abbiamo il 50% delle specie presenti in Italia, di tutto il territorio europeo e gran parte di queste specie sono sul nostro territorio e poi da un'analisi che ho potuto fare ci sono gran parte di queste specie sia animali che vegetali che sono proprio nel nostro reggio. Molte di queste sono frutto di rapporti storici, di insediamenti diciamo che risalgono al vecchio Tirolo, queste popolazioni che sono spinte, hanno popolato i pascoli più lontani con questi reggi delle nostre pecore, penso alla Tingola Fiemese, la pecora della Val di Funes, ma la stessa Capra Mocchena della Valle dei Mocchini, quindi si parla anche di territori della minoranza linguistica, ma poi naturalmente il lavoro che hanno fatto i vignaioli trentini, si pensa al Gruppello di Revo, alla Pavana della Val Sugana, al Branc de Sers, a tutti quei a Rebo, al Senen, a tutti questi vitigni autotoni che rappresentano una storia. Nella parte dell'Alto Asia abbiamo anche lì numerose specie, in Tirolo anche e qui sono nate numerose associazioni di agricoltori che tendono a valorizzare questi prodotti con dei progetti specifici, alcuni però per fortuna ancorati in sede europea e questo è un valore aggiunto, prima diceva il collega Borga che manca anche questa tutela da parte della comunità europea, in parte è vero, ma in parte siamo riusciti a riconoscerle queste razze con dei contributi agli allevatori, con dei riconoscimenti importanti però ai fini ambientali. Questa mozione impegna innanzitutto l'Assemblea, mi fa piacere che è stata approvata all'unanimità, impegna l'Assemblea legislativa a promuovere questa biodiversità, a mantenere a seguirla anche dal punto di vista scientifico perché noi abbiamo bisogno che queste specie vengano studiate, vengano fatte conoscere all'interno del mondo della scuola, del consumatore perché insomma un consumatore attento è un consumatore del domani, del futuro e quindi noi possiamo difenderle queste peculiarità. Mi ha fatto piacere un intervento particolare per esempio dei verdi dell'Alto Asia, ma sono espressi anche i verdi del Tirolo. Abbiamo sentito un po' tutte le anime politiche, però in quell'Assemblea quando io ho potuto leggere questa mia mozione ho pensato a tutti quegli agricoltori che hanno in questi anni mantenuto, molti di questi non ci sono più e quindi è stata una grandissima soddisfazione. Adesso però naturalmente dobbiamo andare avanti. Borga, lei chiedeva invece una politica diversa, in particolare con alcuni stati, lei ha citato la Turchia ma anche l'Arabia Saudita. Questa mozione non è passata perché secondo lei? Perché non è passata bisogna chiedere la maggioranza che non l'ha votata. Posso colmare un'omissione involontaria sicuramente del collega dove parla di vitigni autogno, bisogna ricordare per forza di cosa il Tirolde, il principale di vitigni autogno, il grande vino. Detto questo, io sono partito con i piedi per terra, so benissimo che le deliberazioni dei Dryer Lantag lasciano il tempo che trovano, non sono neppure attuate neppure quando riguardano questioni concrete che potrebbero fare gli esecutivi delle tre province. Visto però che si affronta il tema dei profughi, per forza di cose bisognerà occuparsi anche di politica e io credo che un organismo politico comunque che aspira ad essere tale come Dryer Lantag non può prescindere dal, non può non affrontare quelli che sono i temi fondamentali. I temi fondamentali sono quelli della politica estera perché fin tanto che in Libia ed in Siria non saranno ristabiliti l'ordine, la situazione comunque non troverà una soluzione. Il problema non è quello di accogliere 100 mila, 200 mila, 300 mila quanti, un milione, 10 milioni di queste persone. Il problema invece è risolvere il problema laddove è stato creato e purtroppo è stato creato anche dagli Stati Uniti, da alcuni paesi europei e dai loro alleati è notorio che finanziano le bande di terroristi che infestano queste regioni, quindi è lì che bisogna intervenire, non a posteriori. Questa era la proposta, è stata bocciata, è un po' un'abitudine quindi non me la sono presa più di tanto. Comunque erai scettico sul fatto che queste emozioni poi possano essere realmente attuate. Diciamo che quando la prima delle emozioni ad essere approvata è quella che invita gli esecutivi a dare esecuzione alle emozioni vuol dire che qualcosa che non va c'è, la stragrande maggioranza di queste non sono poi attuate e non soltanto quelle come dire di indirizzo, di principio, ma anche quelle che riguardano delle questioni concrete a cui gli esecutivi potrebbero dare risposte. Una replica all'Ozer è davvero così o non c'è di credenza? Ma per la sua sarà diversamente forte. Ma io ho già iniziato a lavorare con un incontro con alcuni rappresentanti di queste categorie, in particolar modo le razze autoctone, ci sarà anche un incontro con l'europarlamentare Dorfman su questi temi. Poi io sono positivo per carattere, me lo dice sempre mia moglie, è uno dei miei difetti. Grazie, grazie allora al consigliere D'Orso Borga, grazie a noi per essere stati i nostri ospiti. Grazie per averci seguito, buongiorno da RTTR, vi do appuntamento come sempre, a domani mattina alle 7 e vi auguro una buona giornata.